Benvenuti nel canale di Lord Demonet, oggi siamo qui perché sono iniziati gli spoiler della mini espansione, quindi andiamo senza dubbio a recensirli assieme. Io partirei dalla Doratas Warcraft che adesso non trovo, eccola qua, Levin Justice, spell di Levin, umana. Metti Iurius Levin Duke, quindi duca di Levin, nella tua mano, poi fai x danni a un follower nemico pari al numero di carte Levin nella tua mano. Iurius, per chi non se lo ricordasse, è questo, due mano, uno, tre, Bloodcraft che fa un danno al leader nemico ogni volta che l'avversario va a giocare un difensore. Benissimo. Allora, quindi, questa carta secondo me è forte, ovviamente trova spazio solo in un deck Levin, ma in quell'archetipo diventa la rimozione a uno più forte che esista. Non la rimozione a uno in generale più forte che esista, perché credo che Disdainful Rending sia molto meglio, perché la puoi splashare un po' ovunque, però direi che ha un effetto molto forte, perché di base noi non abbiamo altre carte Levin in mano, facciamo un danno a un follower nemico, a umana, e aggiungiamo Iurius. Quindi in pratica andiamo a generare valore. Non che Iurius sia più di tanto forte in uno sword, però comunque ci può stare. E poi che altro possiamo dire? Beh, chiaramente questa carta non farà mai un danno, perché nel nostro mazzo noi avremo più carte Levin impossibile, no? Quindi avremo Albert, avremo il 3-4 Guardia Nuovo, avremo Geno, avremo Meet the Levin Sister, avremo la umana, avremo un po' di tutto. E in questo spot questa carta indubbiamente può fare tre danni, quattro danni, cinque danni neanche volendo. Cioè voi pensate, andiamo a giocare una carta come Elegance in action, andiamo a pescare tre carte, probabilmente tra queste ci saranno dei Levin, magari abbiamo anche altre carte in mano, abbiamo una mano abbastanza piena, quindi si parla di 7-8-9 carte, questa fa easy, cioè cinque danni. Quindi veramente molto forte, ha molto potenziale secondo me. Poi pensiamo un'altra combo, turno 7, Meet the Levin Sister, aggiungiamo tre pezzi in mano, Levin Justice, aggiungiamo Iurius, facciamo quattro danni, no? Fortissima, cioè è vero che ci costa due mana, ma comunque può essere una combo da non sottovalutare, o meglio, facciamo quattro danni solo con quelle carte lì, ma magari abbiamo anche altri Levin, magari abbiamo un Albert che ci stiamo tenendo per il turno 9, la butto lì. Cioè veramente, a un mana può togliere dei pezzi veramente, veramente grossi, quindi secondo me ci sta e può tranquillamente meritarsi le tre stelle. Poi abbiamo Kudlak, difensore Bloodcraft leggendario, tre mana 1-3, ostentazione, fai un danno al tuo leader e fai X danni a tutti i follower nemici, X equivale all'attacco di questo follower. Spirare, fai un danno al tuo leader, metti un Kudlak 3-5, nel tuo mazzo. Spirare, fai un danno, chiaramente sto parlando dell'effetto evolve adesso, Spirare, fai un danno al tuo leader e metti tre copie di Kudlak 3-5 nel tuo deck. Kudlak 3-5, una volta che entra, ci fa un danno e farà tre danni a tutta la bordo nemica, e inoltre mette un body abbastanza grosso. Benissimo, come vogliamo giudicare questa carta? Allora, sicuramente per adesso non ci sono i supporti che la renderebbero più che giocabile. Tuttavia, di per sé, secondo me, non è affatto male. Tre mana 1-3, facciamo un danno alla bordo nemica. Esisteva una spell Dragoncraft che a tre mana faceva un danno a tutti i nemici. Non metteva body, faceva un danno faccia, ma chi se ne frega, il risultato è quello. In un meta in cui si gioca alle macchine, Kudlak è molto forte perché tutte le macchine sono degli 1-1. In un meta in cui, in generale, c'è uno spam di minion 1-1, lui è forte. Qualora dovessero inventare una carta, magari 2 mana 1-2, tutti i minion nella tua mano prendono più 1-0, lui diventa forte perché di follow up va a fare due danni a tutta la bordo nemica e inoltre ha un effetto spirare indubbiamente molto interessante. Quel Kudlak 3-5 che ci viene messo nel deck non è neanche tanto difficile da pescare perché Blood ha un sacco di accelerini, peschini e quello che volete, Unleash the Nightmare, Aliraj, c'è veramente di tutto e questa carta secondo me è veramente buona. Poi, magari trova spazio solamente nel deck a lei dedicata, magari un self ping, magari si giocherà in mazzi Bloodcraft di stampo control. Indubbiamente non è una carta che possa risollevare Blood dalla sua condizione di ingiocabilità, perché adesso veramente il Natura Blood è letteralmente ingiocabile, però ha del potenziale e per questo io le darei 3 stelle perché credo che da qui a un anno possa assolutamente vedere magari sinergie interessanti che adesso ancora non abbiamo. Però di base ve l'ho detto, è molto più che buona. Poi abbiamo Wildfire Tyrannosaur, difensore Dragoncraft, Natura, leggendario, 9 mana 66, accelerate 2, fai 3 danni a un follower nemico, metti una Terra Angry 3 nella tua mano. Ostentazione, scarta tutte le carte Natura nella tua mano e fai X danni a tutti i nemici, quindi anche faccia. X equivale al numero di carte Natura scartate. Perfetto. Partiamo dal presupposto che questa carta, siccome è una removal chip, l'andiamo a giocare al posto di Disdainful Rending e fin qui non ci piove, perché oltre a fare 3 danni, è vero che costa un mana in più, ma ci dà anche la possibilità di velocizzare il mazzo, grazie al Natura Angry 3. L'effetto Fanfare non ne parliamo, cioè l'effetto Fanfare è più danni a Natura Dragon, più danni inevitabili, più danni da effetto, mettiamola così. Quindi, oltre a Valdain, adesso abbiamo una seconda carta che ci fa da burst. È vero, abbiamo anche Drago della Genesi, abbiamo anche l'altra tizia Nettuno, però di certo non sputiamo su una carta del genere. E questa versatilità, secondo me, gli permette di essere giocato tranquillamente 3 copie, è un supporto a un mazzo che già era tier, già T1, se non è il più scarso dei T1, però ci sta, ci sta. Io la butto lì. Se questa carta non avesse avuto dei supporti come per esempio Valdain, Pterodattilo, comunque in generale la base Dragon Natura, sarebbe stata da 3 stelle. Ma siccome il mazzo è già fermato, io mi sento tranquillamente di dargli 4 stelle perché è veramente molto molto figo. E secondo me potrebbe rendere forse Dragon T1 indiscusso assieme all'Evencraft Natura. Poi bisogna chiaramente vedere quali saranno le carte l'Evencraft che aggiungeranno. Però di per sé lui va a dare, come dire, un bel supporto a un deck che già esisteva. Passiamo alla leggendaria Shadowcraft, Legendary Skeleton, 2 mana, 1 1. Allora, questo nome è, come dire, messo lì un po' per caso perché non è leggendario, perché l'effetto non è di una carta leggendaria, e non è uno scheletro perché è un umano. Benissimo, partiamo da questo presupposto. Poi, a Bane e non può essere targettato dagli effetti e dalle spell dell'avversario. Allora, 2 mana, 1 1, Bane non può essere targettato dalle spell e dagli effetti dell'avversario. Allora, in che scenario è forte se giocato a costo 2? Se giocato a costo 2 è forte qualora noi partissimo, credo, primi. Perché andiamo a giocare un 2 mana, ma in realtà neanche, cioè fa schifo sempre. Cioè, meglio un 2-2. Il nostro 2-2 va a contestare il 2-2 dell'avversario e via, e intorno dopo andiamo a giocare Elio. Non ha neanche Spirare, quindi non va in sinergia con Tot. No, non riesco a trovare uno spot per giocarlo. Ma l'effetto non è finito. Ostentazione, Necromancia 8, Evolve questo follower, però lui di base non può essere evoluto se non tramite effetti delle carte. Benissimo, in Evolve diventa un 5-5. Indubbiamente un minion del genere, diventerebbe forte, ma non da solo. Cioè, Necromancia 8 per avere un 2 mana 5-5 secondo me è veramente sprecato. Cioè, voi pensate che con 16 ombre giochiamo una 4-4 Storm Bane dal mazzo. Cioè, dal mazzo, neanche dalla mano. Per 8 ombre in più. Cioè, meglio che due leggendari skeleton, no? Evoluti. Quindi, boh, o esce un midrange che ha bisogno di pezzi che mettono body enorme a costo basso. Oppure questa carta fa veramente cagare. Cioè, vi ripeto, 8 ombre sono veramente un botto. Cioè, voi pensate che lo scheletro 4 mana 5-4 leggendario evolveva con semplicemente 4 mana all'inizio del nostro turno. E poi, morendo, veniva rievocato, ovviamente solo se in forma evoluta. Cioè, quindi in pratica, quello lì era un 4 mana 5-4. L'avversario ce lo spacca. Ovviamente noi lo dobbiamo evolvere, ma ci sta. Ma lo possiamo fare manualmente. 5-4. L'avversario lo spacca. Lui rinasce come 5-4. All'inizio del nostro turno utilizza, mi pare, necromancia 4. Evolve da solo e l'avversario ha bisogno di rimuoverlo altre due volte. Quindi, o lo rimuove subito utilizzando una doppia removal, oppure continua a darci value. Lui, ok, che costa la metà, ma assolutamente è imparagonabile. Anzi, potrebbe addirittura essere una sorta di rework di quella carta, ma magari mi sbaglio. No, diciamo che Corpse Lord of Wo presenta sicuramente delle similitudini, ma ha anche molte differenze. E quindi, ragazzi, niente. Secondo me è totalmente brutto, perché in un evolve, mazzo in cui lui vorrebbe entrare, non fa una sega, perché noi le ombre le utilizziamo per Aisha. O magari utilizziamo Aisha in early game, poi giochiamo Kawi turno 6, rianimiamo Aisha e utilizziamo le ombre per evolverla. Quindi, sarebbe però più utile in quello spot, piuttosto che mettere un 2 mana 5-5. In generale non ha sinergie con altre tipologie di deck. Per esempio, in natura non entra, in macchina non entra. Beh, oddio, in macchina no, preferisco assolutamente tenermi le ombre per l'effetto di Nicola. E quindi da 2 stelle, ragazzi, io la vedo totalmente ingiocabile. Fa veramente schifo. Cioè, o fanno una carta 1 che dice evolvi un minion che costa 2 mana o meno. Certo, quella carta sarebbe rotta, si giocherebbe probabilmente in ogni mazzo Shadowcraft. Oppure lui mi sembra veramente una ciofeca. Quindi passerei oltre a Mugnir Purifying Light, difensore Portalcraft Gold. 2 mana 2-2, ostentazione. Rimuovi tutti gli effetti di tutti gli altri difensori, eccetto quelli che scambiano attacco e difesa. Ovviamente i difensori già in campo, intende. Evoluzione, bandisci un amuleto avversario. Questa carta è ovviamente una Thatch, che secondo me Portal può permettersi di giocare a 2 copie in ogni sua lista, persino in artifact. E che cosa va a fare? Innanzitutto contro Shadow vai a rompere il mazzo, perché Shadow si basa tutto sugli effetti ispirare, glieli togli e Tot diventa praticamente inattivabile. Cioè, voi pensate, board con 4 effetti ispirare, vado a giocare Mugnir e l'avversario perde 4 effetti per Tot. Cioè, perde 4 count per Tot. Poi, l'avversario magari riesce a giocare Tot, mette un sacco di minion, magari anche piccoli, per fare 2 danni per volta, tirate Mugnir e gli sbiancate la board. E vi risparmiate probabilmente dagli 8 ai 10 danni. Insomma, mica male se vi sta così questa carta, eh? Poi, utile per bypassare le guardie. Entra, sbiancate tutte le guardie dell'avversario. Entra, togliete Bane a vari minion. Evolve, toglie l'amuleto di Elana. O magari, toh, abbiamo bisogno per forza di evolverla, ralentiamo l'avversario bandendo una Terran Great Tree. Cioè, è veramente molto forte e ha diverse applicazioni. Io le darei senza dubbio, non lo so, 3 stelle e mezzo, perché la vedo molto più che giocabile. Nonostante non vada in sinergia con le carte portal presenti in meta. Ma questa non deve andare in sinergia, è semplicemente un attack card. Passiamo all'ultima carta, che è l'amuleto Evencraft Gold. Hallowed Cave Shrine. Amuleto a 3. Countdown 2. All'inizio del nostro turno, evochiamo un Holy Cavalier, che è il token di Ichetar. Ostentazione, evoca un Holy Cavalier. Se hai più punti evoluzione del tuo avversario, recupera un Play Point. Benissimo. Questo, se hai più punti evoluzione, direi che è una cacata, perché Evencraft non è un mazzo che preserva punti evoluzione. Il fatto che a costo 3 evochi 3-1-2 sparsi in tre turni diversi mi fa cagare al cazzo. Cioè, voi pensate, sta carta giocata in curva? Eh, tre mana evoca un 1-2. L'avversario ce lo contesta con un 2-2. Il turno dopo, quel 2-2 va a contestare l'altro 1-2. Alla mala parata, eh. Utile per difendersi, ma che cosa serve? Assolutamente a nulla. Cioè, ci difendiamo con un 1-2. Non lo so, non mi piace. Secondo me, per ora, non può trovare spazio. È vero che l'effetto può essere forte qualora riuscissimo a recuperare punti di evoluzione. Però io credo che a 3 sia sempre meglio la spinge. Cioè, spinge anche versatilità, perché costa anche 8. Cioè, la possiamo giocare a 3 come 8 in base al matchup e niente. Le darei due stelle e mezzo. Ve l'ho detto, non mi piace granché. Cioè, più che altro gli 1-2 hanno rush se giocati da Hitchler. Se giocati da Stamuleto sono semplicemente degli 1-2 guardia. Dunque, su Reddit troviamo altre carte che sono state spoilerate su Games with, piuttosto che una live su YouTube. La prima è Primordial Beast, leggendaria Forest Craft, 9 mana, 7-7 guardia. Accelerate 1, ripristina 4 di salute al tuo leader. Cioè, in elana sarebbe stata forte sta roba. Soprattutto anche per l'effetto ostentazione, non sarebbe stata male, eh. Vabbè, dicevo, l'ostentazione è quando questo follower lascia il gioco, evoca randomicamente difensori Forest Craft di costo differente distrutti durante il match, chiaramente sulla tua parte del terreno, escludendo Primordial Beast. E va bene. Quindi, l'effetto è forte, sì, 9 mana, 7-7 riempiamo la board. Cioè, che cosa vogliamo giocare per dare senso a questa carta? Cioè, Irene credo che sia troppo forte per non giocarla, quindi va bene, può uscire un 3-3. Omnis è fortissimo, sia con questa carta che in generale in ogni Forest Craft, quindi potrebbe uscirci un 4-5 Storm. Gli Okami, che sono i token di Omnis, sono comunque dei 3-4. Che, insomma, tirati fuori come primo minion da Primordial Beast, vuol dire che quel 3-4 diventa un 6-4 o un 5-4. Beh, non male, comunque. In generale, comunque, dovremmo giocare un mazzo che sia difensori Forest Craft, ma ce li ha belli grossi. Quindi questa potrebbe essere una sorta di spell di Ennea, tra mille virgolette. Ora, Ennea è molto più versatile perché hai comunque un drop che ha 6 mana, mette body e che ti dà una spell che puoi giocare quando vuoi. E la spell ha sviluppo, quindi in teoria la puoi giocare anche a 1. Invece, Primordial Beast te lo devi tenere e T9 lo devi giocare come win condition. È comunque molto più forte perché mette due volte board, non male. Se tu gli tiri il dinosauro Forest, Sea Forest, il dinosauro Dragon, non risolvi nulla perché ok che spacchi tutta la board, ok che togli il 7-7, però si attiva il secondo effetto che gli permette di rievocare board piena, praticamente. E credo che prima o poi possa vedere gioco in un mazzo a lei dedicata. Cioè, il mazzo non deve essere per forza dedicato a questa carta, capiamoci. Basterebbe che sia un midrange Forestcraft che ha più necessità di giocare minion grossi piuttosto che roba piccola tipo fate eccetera eccetera. Poi vabbè, oddio, esce una fata va benissimo, gli altri 3 minion magari sono grossi. Poi che altro possiamo dire? Secondo me potrebbe avere senso in una sorta di evolve, cioè Cynthia se esce da Primordial Beast non è male. I difensori piccoli li giochiamo tutti Natura, no non Natura scusate, Neutral. Tipo giochiamo Jaffner, Hnikar e poi è un po' da vedere. Magari giochiamo anche un compartimento macchine tipo Robo Angelo, la 1-2 che pesca macchina, non lo so, la sto buttando lì, probabilmente non ha senso un deck del genere. Però è per farvi capire che se costruite il deck attorno a questa carta può avvenire qualcosa di interessante. Certo, dobbiamo aspettare probabilmente qualche espansione per far sì che lei veda a gioco, magari direttamente alla prossima, però 3 stelle e mezzo secondo me se le merita tutte. Poi abbiamo Magical Tool Store. Amuleto Runecraft, non ha trait, quindi non è un sigillo terrestre. Invocation. All'inizio del tuo decimo turno o più, se hai almeno un punto evoluzione, utilizza un punto evoluzione e metti questa carta dal deck in gioco. Quindi noi a turno 10 mettiamo un amuleto a 7 in gioco a gratis. Beh, fortissimo. Finché questo amuleto non lascia il gioco, il tuo leader guadagna il seguente effetto. Quando giochi una carta fai due danni a un nemico casuale. E inoltre, se non ci sono follower nel tuo deck, recupera un playpoint. Ragazzi, è indubbio dire che questo sia un meme e anche molto brutto. Cioè, noi dobbiamo o giocare questa carta di turno 7, quindi turno 7 perdo il turno e non è che abbia molto senso. Può fare da burst in un mazzo spell boost. Cioè, spell boost, secondo me, se ha 7 mana liberi non ha bisogno di questa roba. Cioè, letteralmente con 7 mana tiro raio. Oppure, se ho veramente 7 mana liberi, li utilizzo per fare un vantaggio subito. Non è che vado a giocare una carta che mi dà una value del genere. Una value non necessaria. L'effetto invocation è totalmente un meme. Quindi io penso che assolutamente sia ingiocabile e le darei, credo, mezza stella perché è veramente inchiavabile sta roba. È una delle peggiori carte che io abbia mai visto. Ultima carta per oggi è una gold neutrale. Aurora Angel. 2 mana 2-2. Ostentazione. Dai al tuo leader il seguente effetto. Fino all'inizio del tuo prossimo turno. Quando un follower nemico con storm attacca al tuo leader, perde meno 2-0. Evolve prende full stats e dà a un follower nemico meno 2-0. Allora, sicuramente è interessante contro un mazzo come è il Daria, per esempio. Magari la giochiamo in un aggro e andiamo ad impedire all'avversario di farci tanti danni storm con lei. Possiamo giocarla più copio lo stesso turno. Tutti i minion avversari con storm e prendono meno 4-0. In pratica vanifichiamo ogni tentativo di OTK. Quindi sicuramente contro Daria è fortissima. Contro Roach in Unlimited è comunque abbastanza forte, se giocata al momento giusto. In Rotation per me non è interessante. Sì, ok, c'è il Natura Evencraft. Il problema è che il Natura Evencraft non si basa solo sugli storm, si basa anche sul mettere board. E comunque un Natura Evencraft può anche aspettare a fare le sue combo. Quindi non credo che contro quella tipologia di mazzo sia così tanto interessante questa carta. Contro Roach, ma in realtà Roach non ha problemi a giocare un Roach in più, scusate la ripetizione. Cioè, veramente, dovete utilizzare lei, settarvi in qualche modo l'Ital e impedire all'avversario di battervi in un turno. Dubito che una qualsivoglia deck possa usufruire di questa strategia più volte. Quindi, cioè, in Rotation io non la giocherei mai. In Unlimited sì, tranquillamente. Cioè, una carta che molto probabilmente sarebbe forte anche a 3 copie. Io le darei perciò a 3 stelle, perché comunque ciò non toglie che sia effettivamente una touch abbastanza utile. Quindi, io direi che per questo video può essere tutto. Noi ci rivediamo al prossimo. Ciao ragazzi!